Ciao a tutti amici del web, eccoci di nuovo insieme per parlare di vita e come si salva la vita. Un anno passato insieme ha visto moltissime iniziative, flash mob per la vita nelle piazze, eventi BLSD di apertura nelle gare sportive, simulazione e tante tante altre iniziative passate insieme. Un ringraziamento per tutti quanti, flash mob per la vita, Nettuno, stadio di baseball, vai col trailer! Un ringraziamento per la vita, Nettuno, stadio di baseball, vai col trailer! E' VIVA LA VITA! 16 novembre, Fiumicino, Parco Leonardo, vieni, impara e salva a rianimare un cuore. Continuate a seguirci numerosi e ricordate, la vita è un diritto di tutti, ma è un dovere per ognuno di noi imparare a difenderla. Uno, due, tre, quattro, cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque! Uno, due, tre, quattro, cinque!